stanco di pagare questa roba costruisciti da solo il tuo prodotto omeopatico cominciate procurandovi il vostro principio attivo mettete un grammo in un bicchiere prendete una bottiglia d'acqua e aggiungetene fino ad arrivare a 100 grammi ora prendete un altro bicchiere metteteci un grammo della soluzione preparata e poi aggiungete acqua fino a 100 grammi ripetete il tutto per 12 volte prendete l'ultimo bicchiere e versatene il contenuto in una bottiglia ora sbattete la bottiglia sulla bibbia tre volte ora trovate un libro di pirandello aprite la pagina 47 e strofinateci la bottiglia ora utilizzate la bottiglia come tessera di un domino adesso assaggiate il prodotto provate a confrontarlo con dell'acqua della bottiglia accorgetevi che sono esattamente la stessa cosa buttate via il bicchiere bevete direttamente dal rubinetto arrabbiatevi perché vi accorgete che potevate saltare tutti i passaggi precedenti e arrivare direttamente a questo punto facile vero grazie a tutti grazie a tutti